Un dibattito che langue, così il segretario provinciale Filt CGL definisce la questione mobilità in seno al comune dell'Aquila. Per Domenico Fontana non si sta affrontando la questione in tutti i suoi aspetti, e ne sono tanti, dalla fusione Amatua al bacino del Gran Sasso. In alcuni casi pensiamo che si stiano rimandando scelte, pensiamo alla gestione del termine al bus, a quella concessione che per ora rimane sospesa. In altri casi pensiamo che Langua è il dibattito, è un dibattito che dovrebbe essere pubblico sul destino della fusione Amatua e soprattutto sul destino del bacino di traffico gestito oggi dalla Furniviera del Gran Sasso, che mancanza di scelte è avviato a gara e quindi affidamento a privati. Noi chiediamo che si dibatta del tema, le scelte vanno prese in questi giorni perché le novità normative impongono tempi stretti e soprattutto misure correttive certe da mettere in campo. Per quanto riguarda Ama è incardinato il percorso di fusione in Tua, ma entro fine anno bisognerà che la Regione Abruzzo produca una norma che preveda tale fattispecie, noi pensiamo che lì bisogna che il Comune dell'Aquila si faccia sentire perché noi pensiamo che l'unica soluzione sia una fusione e non l'acquisizione dell'azienda. Per quanto riguarda centro turistico siamo in Regine di Prologa della Concessione con il rischio di dover bandire una gara di affidamento di quel servizio. Sul piatto anche la dedicata questione dei lavoratori dell'MP, da mesi senza stipendio, un destino legato alla gestione del terminal di Colle Maggio e anche ai parcheggi gratuito sui quali il sindacato esprime contrarietà anche perché potrebbe per loro configurarsi un danno erariale. Noi crediamo che una scelta si imponga, è da troppo tempo che viene rimandata, la concessione è sospesa, questo produce A. una difficoltà nel pagamento delle distribuzioni dei lavoratori impiegati in quell'azienda, B. una deregulamentazione della sosta in città, una viabilità che ne risente e soprattutto una gestione del terminal bus che è l'infrastruttura pubblica che è anche biglietto da visita in questa città in condizioni non degne.